Ragazzi mi è arrivato un pacco Eccolo qui, apriamo insieme Questo Non riesco ad aprire Vaffanculo l'ho aperto Mica ma quanti pacchi Cioè che cazzo è in senso Ci hanno fatto un pacco dentro un pacco Eccola Ma che cazzo Ma cos'è un guanto, regà Eccola La sticky boy, raga Ok ragazzi adesso la proveremo insieme Ragazzi c'ho paurissima Ecco due Ok raga l'ha aperta ma non so come si chiude Raga era successa Una cosa stranissima con la sticky boy Ovvero l'abbiamo buttata per terra Nel video di prima, non so se vi ricordate L'abbiamo buttata per terra Si era aperta, ok e cercando di chiuderla Ho visto un video su youtube, cercando di chiuderla Si era tipo spezzatissima Ma aperta si può aprire in diversi modi Come ho fatto prima Però buttando la terra tipo così Oppure posso semplicemente premere il bottone sopra E vabbè adesso proveremo in un modo abbastanza strano Porca tro... Regà cacchio l'avete vista e rimbalzata Ma poi quanto cazzo è lunga sta cosa Cioè penso sarà un metro Questa non è fatta di ferro È fatta di alluminio Però ragazzi fa male uguale Cioè fa un male cane sta cosa Adesso vi faccio vedere anche come si chiude Il pulsante va verso il basso E poi da sopra iniziamo a girare verso sinistra E a scendere giù Scendere giù Scendere giù Scendere ancora 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 Ok continuiamo Continuiamo Ok Poi sta parte qua la spingiamo sotto Questa raga è la parte della sicura Che si fa così Prima di si preme fino a qua E poi si mette la sicura così E poi si lascia chiudere Oh! Eccola qua Questa ragazza è la stivoli Un altro po' regà Guardate Porca troia Cioè la una volta in un guanti In dei guanti Ma che c***o